E' Sister Act, lo spettacolo più visto in Italia al Teatro Nazionale di Milano. Il musical diretto da Chiara Noschese con la produzione Stagi Entertainment che da settembre a dicembre 2022 ha fatto registrare ben oltre 80.000 presenze, superando il record dell'anno precedente, traguardato da Pretty Woman. Nel cast anche Elisabella, giovane e talentuosa performer di musical. Entrare a far parte del cast di Sister Act è stata per me la realizzazione di un sogno, perché il mio obiettivo è stato da sempre quello di poter lavorare in teatro e Sister Act al Teatro Nazionale. Beh, direi che come prima esperienza lavorativa non c'è male, davvero non avrei potuto desiderare di meglio, sono strafelice. Poi mi sono trovata benissimo, anche proprio umanamente parlando con tutti i miei colleghi, perché si è creato un gruppo affiatato, un gruppo molto unito e credo che alla fine sia stata anche questa la forza di Sister Act. Nello spettacolo io facevo parte dell'ensemble, interpretavo Sor Maria Julienne, che è la suora invasata, diciamo così, la suora fuori di testa. Una pazza. Mi sono divertita tantissimo, inutile dirlo. E poi ho avuto anche la possibilità di interpretare in alcune delle repliche Sor Maria Roberta. Nata e cresciuta tra Mussomeli e Caltanissetta, da sempre ho nutrito un grande amore per il mondo dell'arte, della danza, del canto, fino alla recitazione. Un percorso artistico, il suo costruito con edizione attraverso lo studio, con esperienze che l'hanno vista anche all'Imperial Ballet Society of Teachers of Dancing di Londra nel 2018, poi la laurea dello scorso luglio alla BSMT Bernstein School of Musical Theatre di Bologna, diretta da Shona Farrell. Varie le produzioni a cui ha partecipato nel 2020, dal musicologo La Homa con la regia di Saverio Marconi e nello stesso anno Into the Woods con la regia di Raffaele La Tagliata. Nel 2021 è necroforos in Nine di Saverio Marconi e subito dopo ricoprì il ruolo di Cassine Cookies dal regista Mauro Simone. Nel 2022 è stata anche Eva nel musical Bright It On con la regia di Eugenio Contenti e poi l'esperienza di Sister Act al Teatro Nazionale di Milano. Ai bambini, ai ragazzi che hanno un sogno. Non smettete mai... So che è una frase scontata, però davvero, per quanto grande possa sembrare questo sogno, anche se vi può sembrare un obiettivo irraggiungibile, non lo è. Non smettete mai di credere nei vostri sogni. Continuate sempre a inseguirli con tanta determinazione e tanto amore. Grazie. Grazie.